Il carnevale di Butignano è festa e creatività, cultura antica e modernità e si sono incontrati i professionisti con i giovani della nostra comunità. Abbiamo raccontato, ascoltato, stimolato la fantasia per dare nuova linfa alla socialità e all'economia. Gli esperti della cartapesta custodiscono la tradizione e l'hanno trasmessa ai giovani con gioia e con passioni. Abbiamo ascoltato le loro idee, i loro sogni, le loro visioni per creare insieme nuovi orizzonti e nuove progettazioni. Siamo felici che ora molti giovani vivranno il nostro carnevale con uno sguardo diverso tra il gioco e il professionale. C'è chi ha inventato, chi costruito, chi rielaborato la tradizione e chi ha scritto i testi e le musiche per una nuova canzone. Grazie al Consiglio dei Ministri per aver contribuito alla nascita di nuovi artisti e grazie all'Anci Nazionale per questa occasione per il nostro carnevale e grazie all'amministrazione comunale di Putignano che con i giovani guarda più lontano. E ora tralascio la rima baciata per un messaggio formale per omaggiare chi ha generato questo progetto speciale. Il progetto è cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a Valere sul Fondo per le Politiche Giovanili 2020-2021.